ciao a tutti oggi andiamo a vedere come montare il filtro della freewell sul nostro dji mavic mini allora la prima cosa che dobbiamo fare è abbassare il nostro gimbal in maniera tale da poter incastrare il nostro filtro qua nelle fessure che vedete dell'aria della nostra videocamera quindi andiamo a prendere il nostro filtro filtro della freewell e dobbiamo incastrare questi cancetti dentro le prese d'aria del del nostro la nostra camera del nostro drone una volta che queste sono incastrate bene andiamo a incastrare anche la parte sotto ecco fatto e il nostro filtro è pronto e il nostro drone può volare grazie e al prossimo video